Bisogna rivedere la sicurezza, è accaduto con tanti altri leader, ma io la sintetizzerei così da giornalista. Telefonata finta, leader vero, perché ha mantenuto tutte le posizioni. Penso invece quando telefonavano ad altri leader, prima li chiamavano, tu sai io sono per i porti chiusi, due anni dopo sono sempre il medesimo leader, però ho cambiato già stacchetta, sono per i porti aperti. Quelle erano telefonate vere per leader finti, preferisco le telefonate finte per leader veri.